L'approvazione del terzo mandato per i sindaci dei comuni fino a 15.000 abitanti e l'abolizione di ogni limite di mandato per i comuni sotto i 5.000 abitanti di fatto sblocca la campagna elettorale dei 38 comuni pesaresi al voto nelle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno. Ricci e Seri, sindaci di Pesorefano, unici comuni dalla demografia abbondantemente sopra la soglia del provvedimento, sono di fatto gli unici primi cittadini non ricandidabili della provincia. Ci sono una trentina di comuni sotto i 5.000 abitanti in cui si potrà di fatto essere sindaci a vita e poi ci sono 9 sindaci di comuni sopra i 5.000 abitanti che di fatto rientrano nella partita elettorale. A cominciare da Urbino che proprio ieri ha ottenuto lo status di capoluogo di provincia alla stregua di Pesaro vincendo una battaglia legislativa attesa da decenni. Gambini non si sbilancia ma viaggia verso la ricandidatura al pari di Alberto Alessandri che punta a ricandidarsi a Cagli. Probabile anche il tris di Enrico Rossi a Cartoceto. Non si ricandiderà invece a Tavuglia Francesca Paolucci, valutazioni in corso a Gabiccemare per Domenico Pascuzzi, a Montelabate per Cinziaferri e a Urbania per Marco Ciccolini. Di problemi non ce n'erano a Pergola con Simona Guidarelli che sta concludendo ancora il primo mandato. A Vallefoglia invece il dubbio era di aver svalicato quota 15.000 abitanti ma far fede sarebbero i dati Istat 2022 che terrebbero ancora sotto soglia il terzo comune più popoloso della provincia. Ucchielli però non si sbilancia su un eventuale terzo mandato. Io non mi sono mai autocandidata nulla, valuteremo insieme quello che serve per fare in modo che ci possa essere una continuità perché non è solo il sindaco, noi abbiamo fatto sempre un grande lavoro di squadra, della giunta, del consiglio, della maggioranza ma anche con le minoranze abbiamo sempre collaborato per il bene della città, per il bene della comunità. Quindi valuteremo nel momento in cui è convertito in legge il decreto per quel che mi riguarda e poi decideremo insieme come sempre.